Gentili telespettatori, un cordiale saluto a tutti voi e benvenuti a questa edizione del telegiornale che apriamo con la politica. Tornerà a riunirsi domani il Consiglio Comunale di Siracusa. All'ordine del giorno diversi temi, fra cui il dimensionamento scolastico e le opere pubbliche. Vediamo il servizio. Dopo oltre un mese il Consiglio Comunale tornerà a riunirsi. Lo farà domani mattina, particolarmente lunga, la lista dei punti all'ordine del giorno, con 24 temi che, teoricamente, la Sise cittadina dovrebbe discutere. Non è escluso che possa tornare in aula il confronto sulle problematiche relative alla gestione delle sedi scolastiche, che resta una vicenda calda dopo le polemiche relative al piano di dimensionamento scolastico. Tra le proposte su cui il Consiglio potrebbe esprimere il proprio parere, quella secondo cui l'amministrazione comunale potrebbe istituire un fondo per le vittime del racket. L'idea è di Salvo Castagnino, lanciata anche a seguito delle intimidazioni subite da alcuni operatori commerciali del capoluogo nei mesi scorsi. In elenco anche il tema parcheggio a pagamento e l'ipotesi di affidarne la gestione a privati, oltre a possibili momenti di approfondimento sulla gestione del servizio bus-navetta e sulla situazione relativa alla Fondazione Inda. In discussione poi i problemi del cimitero comunale e le modalità di utilizzo dell'imposta di soggiorno. Si è svolta questa mattina anche a Siracusa la giornata del Pi Greco Day. Ad organizzarla è stato l'Istituto Einaudi. Ce ne parla Claudia. Si è svolto a Siracusa il Pi Greco Day organizzato dall'Istituto Einaudi. È stata una mattinata caratterizzata da impegni di studio e di sport. Alla Sala Borsellino infatti si è tenuto un convegno sulla figura del matematico siracusano alla presenza di molti studenti e docenti. Poi caccia al tesoro e competizioni di corsa. Infine il flash mob davanti alla statua di Archimede. Ascoltiamo adesso l'intervista realizzata con la preside Teresella Celesti sulla caccia al tesoro. La caccia al tesoro come tutte le manifestazioni agonistiche è una caccia per raggiungere il tesoro. In questo caso sarà quindi un premio che verrà riconosciuto ai ragazzi in occasione della prossima assemblea d'istituto. Come si articola? Lungo un perimetro realizzato in 3,14 km abbiamo collocato le varie tessere che compongono lo stomacchio in Archimedeo. Ad ognuna di queste tessere con un linguaggio QR code i ragazzi scopriranno non soltanto la geostoria del luogo in cui viene appunto collocata questo tassello dello stomacchio. Ma troveranno un quesito o di fisica o di matematica che darà loro la seconda tappa della caccia al tesoro. Vincerà la squadra che riuscirà a mettere insieme quanti più tasselli dello stomacchio e quindi si qualificherà prima. L'idea è quella. Il quiz di matematica e di fisica non è un quiz squisitamente scolastico. È un quiz che mette in gioco l'intuizione e le conoscenze che ripeto appartengono al cittadino, al diventare grandi, all'essere partecipi della realtà. A Priolo sono state depositate le oltre 100 firme raccolte domenica scorsa durante la manifestazione in piazza Quattrocanti. La raccolta firme è indirizzata al commissario straordinario del comune di Priolo Gargallo, dottor Tuccio Papalardo, per chiedere l'immediata bonifica di piazza Bellini dal mercurio e dall'amianto che è stato ritrovato in seguito ai lavori di riqualificazione della stessa piazza e per far avviare il biomonitoraggio umano, cioè la misurazione di sostanze chimiche nel sangue e nei tessuti del corpo umano, al fine di stabilire se vi è stata una contaminazione di tali prodotti tossici in una singola persona o in un intero gruppo demografico. L'associazione Animali Onlus critica il comune di Siracusa per la questione relativa al mancato interessamento da parte dell'amministrazione per due cuccioli ritrovati per... Animalisti italiani Onlus contro il comune di Siracusa. I responsabili siracusani dell'associazione sono pronti ad adire le vie legali contro l'amministrazione perché l'8 marzo si sarebbe rifiutata attraverso i suoi apparati di soccorrere due cani, nonostante la ferma e reiterata richiesta di intervento di Maria Concetta Sirugo, voce di Animalisti italiani Onlus a Siracusa. I cuccioli erano stati ritrovati per strada accanto a un cassonetto dell'immondizia. Dopo una vana segnalazione al corpo di polizia municipale di Siracusa è seguita un'altra vana denuncia alla dirigente comunale del settore apposito. Ma mi è stato risposto, racconta Sirugo, che i cuccioli non sarebbero stati recuperati come invece prevede la legge regionale 15 del 2000 e che sarebbero stati eventualmente prelevati solo dopo una denuncia di abbandono contro i gnoti, sporta da chi aveva segnalato il ritrovamento. Conclude l'animalista, alle amministrazioni comunali spetta la responsabilità della tutela degli animali vaganti sul territorio. Non è ammissibile che la legge venga costantemente disattesa, ignorando totalmente la sofferenza di creature innocenti. Ci rivolgeremo ai nostri legali per valutare le azioni da intraprendere contro il comune di Siracusa. Restiamo in tema di animali perché sabato sarà inaugurata a Siracusa la Casa delle Farfalle. Vediamo di che cosa si tratta in questo servizio. Il giardino Artemision di Ortigia, situato in piazza Duomo all'interno del palazzo comunale, si trasforma in giardino tropicale e accoglie con anticipo la primavera. Da sabato prossimo, 17 marzo alle ore 10.30, apre infatti la Casa delle Farfalle a Siracusa, un vero e proprio edene che accoglie varie pinte e farfalle appartenenti a varie specie tropicali, tutte libere di volare all'interno del particolare e affascinante giardino allestito con meravigliose piante ornamentali. All'interno è stato creato un percorso didattico che mira all'educazione ambientale con i particolari sull'incredibile vita delle farfalle. «E' come entrare in un pari di isoterrestre», spiega Enzo Scarzo, ideatore e promotore della Casa delle Farfalle. Si resta letteralmente affascinati perché una volta dentro ci si abbandona al fascido del volo delle farfalle tropicale di varie dimensioni e colori. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci alle prossime edizioni.